Non ci vorrebbe molto? Io purtroppo devo dire, lo so questo, non è che lo pensi, lo so, so che si possono fare dappertutto, possono esistere, dove un fascismo, non ho detto che sia identico a quello, un fascismo, cioè un nuovo verbo, come quello che amano i nuovi fascisti in Italia, cioè non siamo tutti uguali, non tutti abbiamo gli stessi diritti, alcuni hanno diritti e altri no, dove questo verbo attecchisce, alla fine c'è il lager, questo io lo so con precisità. C'è una decisione?